Il sindaco di Alfedena, Massimo Scura, ci ritroviamo, ci ritroviamo un anno dopo con numeri che sono cresciuti, anche la qualità dell'organizzazione, è un po' tutta Alfedena è cresciuta al fianco a questo triathlon. Sì, questo è il secondo anno del triathlon dei Sanniti, ci siamo già prenotati per il terzo, ringraziamo l'Enel che non solo ci ha dato un contributo come sponsor, al quale abbiamo già chiesto anche un contributo per il prossimo anno, che ha aperto questa strada che porta alla diga per consentire ai cittadini di poter avere una visione più piacevole, più semplice di tutto l'evento. Ringraziamo anche Terramotliatron che ha organizzato questo evento e già si è proposta per il prossimo. Riccardo De Palma, vittoria incontrastata qui a Alfedena, complimenti. Grazie mille, è stata una giornata ottima, non pensavo di stare così bene, però sono contento di questo risultato, adesso era da un po' che non gareggiavo, questa qui è stata per me una gara di rientro, non pensavo di stare subito così bene, quindi sono contentissimo e soddisfatto. Caratteristiche di questo percorso? Il percorso è stato molto duro, io è la prima volta che gareggio qui e sinceramente non pensavo che il percorso fosse così muscolare, sempre salita e discesa, non c'è stato un metro di pianura, però tutto quanto immerso dentro al verde è stato un bellissimo percorso. Dove si è decisa la gara? Allora, Chiara Giuffini, profeta in patria possiamo dire? Sì, io essendo dell'Aquila qui mi sento quasi in casa, poi questi posti sono veramente fantastici e ne valso veramente la pena. Conoscevi Alfedena, conoscevi un po' le caratteristiche del percorso oppure è stata una scoperta per te? No, è stata una scoperta, ma devo dire una bellissima scoperta. Il tracciato bike, io provenendo dalla bici l'ho veramente adorato, è veramente bellissimo. Faccio molti complimenti agli organizzatori perché è qualcosa di diverso dal solito triathlon. Sulla corsa invece com'è andata? Sulla corsa io pecco un po' in generale, però oggi diciamo meglio delle altre volte.